Oggi inizia l'Europeo, inizia la nostra avventura, l'avventura dell'Italia. La potete seguire sempre con me e... Nonno Faustino! Noi siamo pronti, siamo carichi. Non avevo più una maglia dell'Italia, non so dove sono finite. L'affronterò l'Europeo con ricordo delle mie prime scarpette. Nonno Faustino lo sa, era lui che mi accompagnava a giocare. Era lui che era lì a guardarmi se facevo bene o se facevo male. E come era lui lì, questa sera dobbiamo essere tutti, tutti, tutti qui all'Olimpico. Forza Italia! Hai detto? Ma questa è una canzone, canta questo? È un cantante? È buono degli due. Ma questo, non mi battono le mani, hanno stronti così. Perché? Ma che canta questo? Parlami di cantare! È meglio Bocelli? Ah beh! Come cantava Bocelli prima? Di che voce Bocelli? Ma buono è buono? Che è buono? È buono, buono? Questo si chiama buono? Ma questo è buono, buono. Con quel manico lungo, vuoi? Che è buono, beccato! Questo è un cantante? Questo è buono degli due. Questo è buono stronti? No! Ma attacchi! Questo è il momento più bello di tutti, è o no? Abbracciamosi! Qui e qua! Molto emozionato il nonno. Sta quasi per piangere. Vai! Se siamo uno, aspetta, aspetta! È sempre quello, non è che canta. Vai! Telli d'Italia, l'Italia, se destra, nell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria? Che è buono. È buono. Che gliele. si è destra del municipio, si è cinta alla testa, dove è la vittoria, le borga la chiama, che schiava di Roma e che Dio la creò, siamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, li dà la chiama, vai! Urla! 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 Ma come urla? Urla! 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 Ah che seppia! Lascelo fare! Com'è o no finora? Non mi piace! Perché? Perché sono stupide! Perché come squadra è superiore, però non concludono! Ha giocato il rigore, incredibile. Questo è un arbitro stronzo, un pezzo di merda. Ce la tira da quando ha cominciato la partita, che ce la sta tirando. Il rigore, peralti, peralti, mettete all'arvezzato, peralti, così penso. Sì, 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 sì. Chi ha segnato? Immobile. Ma che immobile? E te l'ho detto, non vuole dire chi era. L'autogol. La parte opposta carica il destro al tiro, il miracolo di Schacchino, la conclusione è rete. Go! 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 Albitro! Albitro! Go! Chi ha segnato? Ma come è possibile? Anche complimenti da un umbro. La Spinazzola. De dove? Che ha fatto una bella partita. Stava facendo. E' De Fuligno. E' De Fuligno, è Umbro. Quelle De Fuligno, giocano tutti bene. Per il pallone immobile, insegna solo destra! Go! 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 Chi ha segnato? No, no. Serginio. No. Serginio. Cosa? Come si chiama? Quel del Napoli. Chi ha segnato? Ma in carpeggio, come si chiama? Ma chi ha segnato? In? 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 Insegna! Insegna? Flavio? Flavio, in signa? Oh, mi ha rompito i coglioni. Ha fatto così. Abbiamo vinto! Sì! 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 Hanno portato fortuna! Beh, tocca dare un'ordita dall'arbitro! Lascia sta, abbiamo vinto! Siamo italiani, andiamo oltre l'arbitro, oltretutto, perché abbiamo un cuore grandissimo. Il nostro cuore azzurro, vero o no? Sì! E' il cincillà del nonno! Fermate il tronco! E' il cincillà! Fermate! E' il cincillà! No! Oh! Forza Italia! E' una! Pronto! Siamo qui, tutti a tifare la nazionale, tutti insieme, come sempre. Non siamo solo io e mio nonno. No! E' tutto un popolo che tifa l'Italia! E adesso cogliamocela, ragazzi! Entra in aria, va verso il fondo, vediamo se riesce a crossarla, arriva Locatelli! Go! 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 Chi ha segnato? E' uno! Ma come uno? Ma chi ha per il giocatore? Ma io l'ho conosciuto! Broccatelli! Chi? Broccatelli! Chi? Broccatelli! Chi ha segnato? Broccatelli! Broccatelli! A grande velocità, Barella può girarsi centralmente, Locatelli carica il senito e il tiro! RETE! No! Broccatelli! Che go! Broccatelli! Broccatelli! Ma! Go! Go! Broccatelli! 2 e della nostra nazionale, respinta corta, immobile, conclusione, RETE! Go! 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 Chi ha segnato? Tre immobile! Ma che immobile! Ma che immobile! Tre sono le cose che piacciono a me! Non ha segnato immobile! Sì, sì, è segnato immobile! Eh, lui! Ma che immobile! Chi ha segnato? Immobile! Chi ha segnato? Immobile! Chi ha segnato? Immobile! Chi ha segnato? Immobile! Gioca bene! Benissimo! A parte la vittoria, ma gioca bene! Siamo felici di vederla insieme tutti i vicini così! Ci abbiamo un ufulignato! Ah! C'è anche Spinazzola! Ci abbiamo un ufulignato che gioca forte! Aia! Fermate Dio! No! Il stadium è tutto pronto! Il nonno c'è! Carletto c'è! La nostra nazionale italiana c'è! Le scarpette ci sono! Forza Italia! Vai! Forza Italia! Pronti alla morte! Sia pronti alla morte! L'Italia chiamo! Sì! E viva l'Italia! Vai! 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 Marella! 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 Ah! Gol! È uno! Gol! Chi ha segnato? Ma come che ne so? Ma come che ne so? E non ho visto niente! Ma come ne hai visto niente? E non ho visto niente! Segnato! Marella! Chi ha segnato? Marella! Chi ha segnato? Baffanculo! La doppia dentiera rimisticata! Non può urlare tanto nonno per via dell'occhio! Quindi è un po' più tranquillo del solito! Ma io sono scatenato! Forza! Forza! Forza ammolliamo un cazzo! Teniamo alta la carica! Ma insigne! 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 Destro! Go! Go! Chi ha segnato? Non ne so! Ma tu sei un cazzo però! Chi ha segnato? Chi è? Insigne! Che cazzo dei gol insigne ragazzi! Mamma mia che cazzo dei gol! Grande! Dopo mi dico mangio la voce dopo la partita d'Italia perché io quando gioco alla nazionale che gol che ha fatto! Forza! Non abbassamo niente! Inizia il secondo tempo ragazzi! Stiamo carichi anche da casa eh! Siccome il nonno non può urlare guardate che gli ho dato! No ragazzi! Carichi! 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 Non molliamo mai in cazzo eh! Anche da casa ragazzi! Positivo! Esce Leo! Il migliore finora di tutti quanti! Leo siamo tutti con te! Forza! Però ragazzi! Non molliamo! Non molliamo! Sei pronto? Sì! 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 Popopopo! Popoppo! E vai! Beh che senti caldo! mamma mia quanto godo spaccato tutto spaccato tutto è muovito non sei contento? si armette si armetterà ho sfondato tutto perché sono cantante tu sei un coglione tu sei un coglione tu sei un coglione tu sei un coglione basta la testa non capisci un bel volo non abbiamo gli abbracci tutto è pronto per l'inizio della semif- la moglie va è meglio perché? almeno solo salute? salutela ciao sei carico? leva questa luce da davanti che mi hai detto? cadete lì a Panculo questa notte no chi mi accompagna a Firenze domani? Uber ne conosci? oh o no? si si chi è? è il fine del pozzorca dove non lo riesco questa deve puntare ma in mezzo immobile immobile può andare alla porta che lo anticipa c'è Federico Chiesa al limite entra in aria Chiesa destra chi ha segnato? chiesa oh ma si è giappato è il primo dell'europeo che ci ha giappato chi ha segnato? chi è sa? chi ha segnato? chi è sa? chi ha segnato? chi ha segnato? chi è sa? chi ha segnato? e va a Panculo no la dentiera no balla incredibile si la ricorsa di Morata il tiro la parata la parata la parata la sua ricorsa l'arbitro che fischia Giorginio che va a tira siamo in finale ai spagnoli si ai spagnoli la ferma di dio si ai spagnoli le va a messa al culo si buschetta come si chiamava quella? si bruschetta come gli fai la bruschetta? Roberto come gli fai la bruschetta? si che gli fai la bruschetta? io me la mangio come gli fai? come gli fai? fermati come gli fai? annaggia mi fai la bruschetta? aspetta la sei contento o no? è bello sono una bocca si si che spinazzola eh che l'altra semifinale qual è? è Inghilterra o Manfredonia? è Inghilterra contro Manfredonia polvese però ma che cazzo dice? ma l'Inghilterra è fuori da morte no ma che? ma invece il Manfredonia ancora c'è? ma cammina eh? tutto c'è perché? perché ne avevo di che? eccoci qua dal Carletto Stenium è tutto pronto maia di rito nonno Faustino già schierato scarpine messe e la coppa ragazzi la coppa se la vogliamo crediamoci e tifiamo la nostra nazionale fino alla fine fino a che abbiamo fiato fino a che possiamo forza Italia forza Italia più forte forza Italia più forte ma voi ce l'ha fanculo stringiamoci a corte siamo pronti alla morte siamo pronti alla morte l'Italia chiamò stringiamoci a corte siamo pronti alla morte siamo pronti alla morte l'Italia chiamò forza che la va a riminoranza forza forza ragazzi forza ragazzi forza ragazzi anche da casa è importante c'hanno loro con l'inno sfiatato perché e mi sente che lagna questa è l'inno nazionale la sente che lagna con gli altri era dura si sapeva ma non molliamo nulla perché siamo italiani eh o no eh oh sì 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 ne va a soppare la palla e mi ha rompito i coglioni io ci credo raga a rientrare fallone in mezzo ancora lo gira distante poi la palla in porta a palo rete che ha segnato che ha segnato che ha segnato forza signora è più importante che mai anche noi da casa dai oh no oh no oh no dai e si concentrato sono concentrato il tiro la prende Donna Roma la parata Donna Roma il tiro rende la presa incredibile la presa la ricorsa di Sakai il tiro siamo 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 campioni d'Europa ma come in uguali comunque si 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 che sofferenza che sofferenza campioni d'Europa si si godo e che spettacolo vincere con la persona che amate abbracciatevi tutti abbracciatevi tutti guardate ho un tendone non è nulla abbracciate abbracciate abbracciatevi tutti